Ecco parte la palla, stavolta hai la possibilità di... che fai? Stavo dando l'effetto Funziona? Si è caruccio Per come la Wii Perfetto Allora ti do... Un cellulare come questo, grazie Ti do la possibilità invece, se c'è l'autorizzazione a mettere onda questo video Di poter partecipare all'estrazione di due biglietti messi in palio da Sony Ericsson Per assistere alla finale di Coppa del Mondo in Sudafrica 2010 Ci sto